salve amici di youtube da quanto tempo va bene dai allora oggi quello che vi voglio fare diciamo riflettere e come sempre è il discorso della fede cioè noi in pratica io io ho notato questa cosa qui no che se noi passiamo in pratica l'essere umano ha bisogno sempre di credere in qualcosa il discorso della fede intesa come proprio quel voglia di credere in qualcosa di più elevato di più alto effettivamente un po anche il mio compito che mi sento di fare questo no e tramite la testimonianza no della foricità fuori da l'uscita fuori dal corpo e le coincidenze il fatto di avere queste strane esperienze no oppure anche la stessa ufologia per esempio insomma sì che si vuole in qualche modo e facilitare no alle fatto che c'è questa fede no in pratica l'essere umano ha bisogno di questa fede è bello che io ho notato in questa cosa molto pericolosa nel senso che quando che molte religioni come adesso insomma molte regioni stanno perdendo il numero dei propri fedeli no e sta cosa qua poi si riversa in cosa cioè l'essere umano si ritrova solo col con proprio lavoro ammesso che ce l'abbia questo lavoro e poi magari questo lavoro e anche se a magari prende bene eccetera però non gli piace si senti incasellato e quindi alla fine cosa gli rimane gli rimane il partner un po la famiglia queste cose qui e magari la famiglia non sempre lo comprende ognuno vive nella propria a un certo mondo interiore una propria solitudine e quindi questa forma di nutrimento questa fede secondo me è molto importante il problema è in cosa creda adesso l'essere umano se le regioni scompaiono se magari soprattutto una persona che vuole evolversi spiritualmente o a certe vuole rimanere qualche modo in parte bambina perché vuole realizzare dei propri sogni però quelle proprie passioni difficilmente si campa c'è e la tua famiglia magari non ti comprende insomma ti trovi in quelle situazioni che come fai a a non avere bisogno di di una fede ma chi è che te la dà in buona parte poi tutte le persone che incontri oppure anche io seguo diverse conferenze trovo molte persone che poi magari scopro che mi hanno in qualche modo deluso che hanno fatto proprio leva su questa mia fede voglia di credere in qualcos'altro però che poi a fine si sono rilevati gli imbonitori oppure chiaramente avevano i loro interessi e quindi quello che dovete stare attenti è questa il fatto che noi abbiamo bisogno di questa fede purtroppo non trovandola in molti stimoli come che aveva una volta con una religione eccetera ci affidiamo diciamo ad altre forme di fede per esempio nel mio caso ho notato molto costi alieni questo ufologia no in realtà io credo parte perché mi piace francamente in parte perché sono convinto anche di questo soprattutto con le testimonianze con questi documenti di questo famoso omega clic che fa queste denunce scomode di questi documenti del secretati dove ti recuperano addirittura avveliguri alieni esperimenti eccetera alla fine ti fa vedere che il mondo in realtà è molto più ampio di quello che si pensa non è solo e bollette da pagare un lavoro che che siano ti piace dopo siano qualche benessere col proprio partner ecco cioè tutta questa il mondo è molto più ampio io di questo posso darti diverse testimonianze no e dopo con i miei video insomma anche 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 lo vedete però quello che voglio dire è che questo bisogno di fede può veramente essere anche pericoloso io per esempio con questa scusa voi potete magari diventare sì di mentalità aperta un'ottima cosa e nel ricercare vi imbattete in personaggi che vi fanno credere chissà cosa come anche per esempio l'aspetto complottista sì è vero che nel mondo ci sono i complotti però non è che bisogna vederli costi qualche cosa in ogni situazione persino a credere non so che la terra sia piatta ecco cose di questo tipo certo se si arriva a quei livelli lì allora ragazzi c'è qualche problema il problema è che poi queste cose spesso se penso anche a Scientology per esempio parte da delle cose vere e poi con quella scusa ti viene tutto un indottrinamento che poi diventa pericoloso quindi sì alla fede ragazzi sì affidarsi avere una fede interiore io stesso posso darvi diverse parte dimostrazioni parte sono chiacchiere perché di tanto al momento non ho poteri paranormali quindi non posso dimostrare in quel modo lì però voglio dire sì che c'è dell'altro però fate il discernimento sempre perché purtroppo questo nostro bisogno disperato soprattutto al giorno d'oggi di fede in cui ci sono le fake news c'è tanto inquinamento anche a livello di informazioni fa sì che non riusciamo più a seguire una nostra via quindi cosa voglio dirvi state attenti a questa fede quindi incrementate la io vi posso dire sì esiste che è dell'altro questo mondo ma state attenti a che questo bisogno di fede non non vi non vi richiude verso certe fazioni adesso voglio dire una fazione particolare però in generale il concetto è che si può passare appunto da una fede a un'altra quindi state molto molto attenti in chi questa fede ve la può addirittura strumentalizzare quindi questa cosa qua dove dovete stare attenti che non c'è nulla a di mare nel guadagnare facendo una cosa che piace anzi fossero tutti così ma farlo addirittura in maniera troppo neccano troppo come dire furba troppo o addirittura che poi supportata da cose che magari non sono vere allora lì insomma si usano menzogna addirittura ci si fa le stigmate che ne so io cosa che ci si inventa stateci molto attenti a queste persone qui che vi fanno perdere tempo energia oltre se ridico cioè quindi mentalità aperta sempre ricercate sempre abbiate fede ma attenti perché la fede proprio vi può vi può ancorare a delle cose che poi alla fine sono sempre castelli di carte vabbè dai mi sono dilungato anche troppo questo era comunque il concetto riflettete su questa cosa qua e tenetevelo presente è una cosa molto preziosa che ho scoperto anche anch'io proprio sulla propria pelle quindi questo vi saluto e al prossimo video